Perché è fondamentale, è un riferimento nazionale per tutte le strutture e società che operano nel settore delle infrastrutture, per poter parlare direttamente con progettisti, architetti, imprese con cui collaboriamo costantemente, su tutto il territorio ovviamente. Fondamentalmente presentiamo in questo caso specifico tutta la nostra linea delle pavimentazioni speciali che curiamo costantemente facendo un'attenta ricerca e sviluppo sul singolo prodotto e sui singoli sistemi che andiamo a proporre coprendo tutta la gamma che va dal settore industriale a quello della rete urbano fino ad arrivare al settore decorativo.